Il funerale di Efisio Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB Alexander, 3 minuti e 40 secondi Salve, pensavate che fosse più difficoltosa la cosa? Ma noi abbiamo preparato lo strumento molto prima Lui temeva di non riuscire a raggiungere quella concentrazione Invece sono bastati pochi attimi Dunque è stata una giornata molto impegnativa per molti di voi, vero? Funerali di Efisio Noi siamo stati presenti e abbiamo accompagnato il caro Efisio nel suo ultimo viaggio materiale Ma lui come spirito certamente non era in quella cosa brutta, vero? L'abbiamo portato immediatamente via da quel luogo E insieme a lui c'è stato costantemente il suo figliuolo e Domenico Sapete chi è Domenico? Il collega di lavoro che ha fatto tanti fenomeni a Lecce, vero Anna? Anna, sì Alexander, e ricordi il male in peggio? Anna, sì Me lo ricordo Alexander, bene Sei commossa Ma non devi esserlo in quanto ti abbiamo in fin dei conti accontentata, vero? Non ho fatto altro che ripetere Portatelo via per favore Ma sto scherzando naturalmente Per alleviare la tensione E mi ha dato l'incarico Il tuo compagno che voleva essere presente Ma noi l'abbiamo sconsigliato in quanto Non sarebbe riuscito a comunicare comunque E poi avrebbe preso il sopravvento l'emozione Quindi il suo amico Domenico lo ha portato immediatamente In una dimensione lontana da questa terrena Però Efisio ha dato l'incarico a me Prima di trasferirsi Perché è bello questo termine Di portare un dono alla sua compagna Cioè a te, Anna Che sei stata la sua compagna, vero? Anna, sì, 60 anni Alexander E quindi mi è gradito darti un dono che è simbolico Ricordi quello a cui avete assistito in ospedale? La macchia di sangue a forma di cuore? È stato Domenico che ha provveduto Sapete che lui morì tanto tempo fa Per una emorregia interna Quindi è stato un simbolo per farti capire Quanto noi possiamo fare anche da disincarnati Quando le condizioni ce lo consentono Allora che forma aveva quella macchia di sangue? Anna, di cuore Alexander, vero, brava E allora questa sera ti porterà un cuore? Mi ha dato l'incarico di portare due cuori Uno da parte di Efisio E uno da parte di Massimiliano Anna, grazie, piange Alexander, lo so, lo vedo Ho difficoltà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti